Lancio in avanti di Gorelli, di Ciole per Gorelli, che ne viene recuperata per Salvestroni, in avanti proprio per Gorelli. Ariel Nero, allontana al numero 3, Ciole, Mesino, Giugioli, allontana Ciolli, Bruni di testa, adesso Salvestroni, Molinari, Molinari recupera palla, la difende, sale in avanti, Molinari, Molinari, calcio di rigore, calcio di rigore, cinquantesimo minuto, calcio di rigore, messo giù, rigore abbastanza netto, messo giù Molinari, ci sono le proteste dei giocatori di casa, ma il rigore c'è, il rigore c'è, hanno poco da protestare, il rigore c'è, c'è anche un cartellino rosso, 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 espulso Mitra, Mitra, espulso. Groseto, Groseto in vantaggio, Groseto in vantaggio, Groseto in vantaggio, Groseto in vantaggio qui a San Gimignano. Sabatini, Raito, Raito, Nigiotti, crosse di Nigiotti, testa, vada, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0. Radoppio di Molinari, splendida realizzazione, splendida realizzazione.